La gioia, l'entusiasmo e anche l'emozione di essere in onda su RTL 125 qui da Sanremo ma sono gli stessi sentimenti che mi fa provare Cristina Borra Grazie Ale, Alessandro Greco, sai che gioia è proprio la parola che mi veniva mente prima che stavamo per iniziare? Stai facendo una strage di cuori qui a Sanremo, tutto il pubblico maschile è perso per Cristina Borra Io però ho un nuovo iPhone cover oggi, il problema è che per mettere la cover di cui parleremo oggi Aspettate il telefono, sappiate l'occasione, non sono più raggiungibile Grazie Raffaele Guarazzi per il mio nuovo iPhone cover Non hai il PIN, quindi per queste due ore almeno di The Flight la nostra Cristina non è raggiungibile Sarà però raggiungibile anche in radiovisione sul canale 30 serie digitale terrestre e sul 750 di Sky E finalmente in tutta Italia ci potete ascoltare anche in top class con la radio digitale a casa e in auto cioè digital audio broadcasting In tutto questo però la radiovisione oggi ha un suo ancora più perché del solito Eh sì, perché oggi comincerà la passerella dei personaggi, dei protagonisti musicali di questa 63esima edizione delle feste a Sanremo Quindi ci mettono la faccia, ci mettiamo la faccia, fatelo anche voi, anche in radiovisione Andate su rtl.it o scaricate l'applicazione per smartphone e tablet di RTL125 dagli store digitali per lasciare il vostro video messaggio E facilissimo sia con Android e anche con Apple Liberate la creatività e concludete, mi raccomando, il video messaggio con il vostro nome, la vostra città e la frase RTL125 è anche mia E anche mia. Salutiamo con molto piacere anche Asus Vivotab Smart, sottile e leggero con il nuovo sistema operativo Windows 8 Finalmente un tablet in grado di fare le stesse cose di un personal computer e tanto altro, provatelo negli Asus Point Vi ricordiamo, nel corso del nostro programma, potete fare, potete twittare ai nostri ospiti con l'hashtag VivoSanrem8 8 non lo scrivete con le lettere ma lo scrivete con un numero Allora, a proposito di ospiti, ce ne saranno parecchi oggi in queste quattro ore che ci saranno di diretta da Sanremo The Flight & Password è il nostro primo ospite, arriverà tra pochissimo e io ve lo devo dire, è quello che mi piace di vivi tutti E' il tuo preferito? E' il mio preferito L'hai già stabilito? Sì Va bene, allora saranno Uccellerò un gruppo e una persona Lui è, cioè, the single one, I like that Raffaele Gualazzi, stiamo parlando di lui Raffaele Gualazzi Intanto arriva anche la musica e, come sapete, cominciamo sempre con il Power Inter Andiamo, Judgment's I See You Questo sole è qualche riparte Sorry, va